L'opera filosofico-giuridica di Hans Kelsen sembra trovare il proprio ubicon system nella volontà di elaborazione di una dottrina pura del diritto, Rainer Hexler, come egli l'appella. Per dottrina pura del diritto dobbiamo intendere essenzialmente una dottrina affrancata da ogni commistione con nozioni morali, politiche o sociologiche. Solo in questa maniera, spiega Kelsen, si può garantire il carattere obiettivo della scienza del diritto, la quale ha un compito descrittivo o, se si preferisce, non legato al mondo dei valori, delle prescrizioni e delle valutazioni. Sotto questo riguardo, spiega Kelsen, il compito della teoria del diritto, della dottrina pura del diritto, non è quello di produrre valori o norme o di esprimere giudizi. Questa invece è la pretesa fuorviante del gius naturalismo o anche del marxismo, ai quali Kelsen apertamente contrappone l'ideale weberiano della wertfreiheit, della avalutatività, ossia bisogna essere avalutativi, descrittivi, privi di portati morali, etici, valutativi. Il gius naturalismo ad esempio presuppone che nella natura vi sia un valore immanente assoluto e da qui il gius naturalismo ricava l'idea di poter dedurre il diritto, cioè quel che è giusto in assoluto secondo natura. Ma questo vale anche su un diverso piano per il marxismo, verso il quale Kelsen è ugualmente critico. Infatti il marxismo compie un'operazione del tutto illegittima, da che mescola indebitamente la teoria giuridica, che riguarda il campo delle norme, con una sociologia economica che concerne invece i dati di fatto. Insomma il marxismo unisce surrettiziamente l'essere e il dover essere. Kelsen per parte sua prova a elaborare una dottrina liberal-democratica del diritto su solide basi gius positivistiche. Per Kelsen la norma, infatti, la legge è norma positiva, dove positivo sta ovviamente per posta da, posta in essere da, dagli uomini naturalmente, posta in essere dagli uomini e non esistente in sé per sé nella natura, non posta in essere dal trascendente divino, non ricavabile dalle leggi immanenti della società. Per il filosofo Kelsen dunque la norma è dover essere e necessità contrapposta all'essere, all'esistente. Sotto questo riguardo la norma poi è relativa, non ha alcun fondamento di verità, è posta ma non ha verità in sé. Autoritas non veritas facit legge. Non si può allora parlare di una legge naturale, almeno non nell'ambito giuridico. A giudizio di Kelsen il diritto è costituito solo da norme positive e valide all'interno dell'ordinamento giuridico, quale che sia il precetto contenuto. Non per caso la dottrina di Kelsen viene appellata a dottrina pura del diritto, Rainer Exleire come dicevamo, ed è appunto questo il titolo di una delle sue opere più fortunate. In sostanza, secondo il pensiero kelseniano, l'ordinamento giuridico è l'oggetto del diritto, null'altro. Kelsen pone come fondamento di ogni ordinamento la norma, o meglio le norme, sulla produzione del diritto oggettivo, le cosiddette fonti del diritto, e crea a tal riguardo il concetto giustamente noto di Grund Norm, la norma fondamentale, e cioè la norma che pone a fondamento del rispetto dell'ordinamento stesso. In altri termini, spiega Kelsen, ogni norma è giustificata dalla conformità alla norma ad essa superiore gerarchicamente. Ma per non compiere quello che si chiama tecnicamente il regressus ad infinitum, bisogna postulare l'esistenza di una norma cardine, tipicamente uno statuto o una costituzione, quella che appunto Kelsen chiama la Grund Norm. L'intero ordinamento al suo apice è giustificato da un carattere esterno, l'imposizione coattiva, che il giurista chiama efficacia dell'ordinamento, cogenza, è ciò che risponde a questo obiettivo. L'impostazione prende dunque un aspetto esteticamente piramidale. Vi è una Grund Norm, una norma fondamentale, al vertice e poi di lì ascendere tutte le altre norme. Infine, dal punto di vista della singola norma, Kelsen concepisce il precetto giuridico come obbligo imposto a un soggetto di diritto. Non è quindi possibile individuare una sorta di distinzione netta tra varie situazioni giuridiche soggettive, da che ciascuna figura soggettiva non è che un obbligo imposto dalla norma che trova applicazione. La struttura posta in essere da Kelsen può così essere sunteggiata. Se A allora B, dove A è il presupposto e B è la coazione, l'obbligo della sanzione. Kelsen, come sappiamo, fu anche tra i fondatori della dottrina pura, secondo cui non vi è alcun tipo di rapporto tra diritto e società, ed è ad oggi considerato uno degli autori della Costituzione austriaca del 1920. L'impatto del pensiero kelseniano, che in maniera manualistica talvolta viene presentato come antitetico rispetto a quello di Carl Smith, è denso di implicazioni nel novecento e di allievi. Norberto Bobbio in Italia è stato sicuramente colui il quale più ha propugnato le ragioni kelseniane. In sostanza il vero obiettivo polemico di Kelsen è il gius naturalismo, quello che di fatto ravvisa una giustizia con la G maiuscola immanente all'interno della natura stessa o della ragione e non artificialmente creata dal volere umano. Sappiamo che al netto della narrazione talvolta un po' leggendaria, effettivamente tra i principali avversari di Hans Kelsen vi fu Carl Smith, che propose una teoria basata sul decisionismo di tutt'altro genere. Bene, la dottrina di Kelsen è importante perché di fatto può essere considerata come il punto più elevato, più consapevole di quello che tecnicamente viene definito il gius positivismo, dottrina in coerenza con la quale, lo ripetiamo, non vi è un diritto di natura ma vi è la valenza e la validità di una legge perché è posta, questo vuol dire positivo, posito, un posto da qualcuno e in quanto tale avente validità. Come dicevamo in precedenza, auctoritas non veritas facit legem, è l'autorità di chi ha appunto l'autorità di porre in essere la legge a determinarla e non una presunta verità in re ipsa nelle cose stesse che determina la legge.